Dopo le paparazzate in compagnia di Stefano De Martino, Belen Rodriguez finalmente lo ammette. Da qualche tempo rivede l'ex marito. La showgirl lo ha detto al Corriere della Sera in una nuova intervista, spiegando però di aver raggiunto a 37 anni una maturità che le permette di capire che non ha bisogno per forza di un compagno per sentirsi completa. La bella argentina vuole quindi andarci con i piedi di piombo. Per ora la sua priorità sono i figli Santiago, avuto proprio con Stefano e Luna Marie, avuta con Antonino Spinalvese. Al quotidiano ha detto che con Stefano ci rivediamo non è una novità, ma noi donne non abbiamo bisogno per forza di un uomo per essere complete. Prima pensavo che senza un compagno la mia vita non fosse completa, non è così, ora vivo sola con i miei figli. Serena. Grazie a tutti.